Grazie per essere qua, grazie per essere venuti da Rottano, siamo contenti, io ringrazio ancora l'amministrazione comunale di Alessano perché ci è stata vicino l'organizzazione di questo concerto, ringrazio la famiglia Adria, proprietario di questo palazzo meraviglioso, loro organizzano un festival che si chiama il Festival delle Musizioni Antiche, in due trance, diciamo i primi di agosto e poi i primi di settembre, loro quindi divulgano musica barocca, musica classica, il proprietario di questo palazzo è uno dei più grossi produttori europei di musica classica, soprattutto a nove etichette musicali e anche una di jazz, quindi ha realizzato questa sala e sono stato fortunato perché con l'ampus voi sapete che organizziamo dei concerti sia per il destino, primavera, quasi tutti aperto e a me serviva una sala attrezzata per la musica. Qua abbiamo un pianoforte meraviglioso, è uno dei migliori pianoforti da Bari in giù probabilmente e quindi cerchiamo di mettere in condizioni i musicisti di suonare a me. Quindi di nuovo grazie a tutti e chiamerei subito gli artisti di questa sera, il protagonista è Luca De Mano, vi viene a presentare il disco che è appena uscito a ottobre, prodotto da un'etichetta leccese, Working Label, giusto? Sì, ok? Abbiamo qui presenti anche la famiglia dell'etichetta, siamo contenti, per cui io comincerei a chiamare alla batteria Francesco Cafisio. Allora adesso Gaetano Partitino Sassosolo, Alessandro Lanzoni al pianoforte Luca De Mano alla batteria Francesco Cafisio. Allora adesso lascio il microfono a lui che comincerà a cantarvele, per cui grazie a tutti. Allora buon ascolto. Se qualcuno è rimasto in piedi ci sono due posti qua, eh? Diciamo tutto da un'eser e poi ci sono posti vuoti. Buon ascolto. Grazie di essere qui. Iniziamo con un brano che ho scritto un paio di anni fa, sentito da Rinoscio. Grazie. 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 Francesco. Francesco Ciniglio. Grazie. Francesco Ciniglio. Francesco. Grazie. Faccio due ringraziamenti adesso, secondo te. Vedo dopo aver inizio. Volevo ringraziare Paolo, l'avete ascoltato prima, la sua associazione Lampus, per aver, insomma, avuto quest'idea, avermi contattato, avermi posto queste cose, averla discusa insieme con tutte le logistiche del caso sono riusciti a portare a tempo, grazie e se potete seguire l'altra associazione è un carizzo sempre di elementi molto molto particolari e di qualità, quindi lunga vita all'appos. Grazie Paolo. Poi vorrei ringraziare il sindaco, il comune, l'amministrazione, il sindaco era qui prima, il set precedente, sono stati molto gentili a saltare a Porto, a quanto poi Paolo e la professione di partecipare per accolarsi una parte di quello che stiamo facendo, quindi grazie e poi l'ultimo ringraziamento speciale a Charles, proprietario di casa, qui dove siamo, ci ha permesso di usare questo posto bellissimo, col posto è venuto anche questo gioiellino qui, quindi siamo molto felici, forse Alessandro un po' di più, mi sono andato a piacere, quindi niente, grazie a Charles, continuiamo, questo piano sul titolo è New, il contenuto nel disco che stiamo presentando questa sera, il disco sul titolo I can see more for me, non ascolto. Grazie. 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 Continuiamo con la title track del disco. I can't see one from here. Oggi, quanto mai, finalmente a casa, questa settimana a questo brano attaccavo, riflettevo, stavo leggendo questo articolo di Hugo Sbisà sulla casetta del mezzo giorno, che ha scritto oggi riguardo al concetto di stasera, e ero d'accordo con delle parole che diceva riguardo alla significata di casa. Volevo anche ringraziarlo per aver deciso di dare quello spazio in quel gennaio e il suo tempo a me e a noi a questo evento, perché immagino che domenica, oggi, vento di gennaio, in tutto, abbiamo deciso di tanti eventi, e ho scelto di dare risalto a questa cosa che mi sono molto contento di spostare un po' la renta di ingrandimento sul suite dell'Italia. Anche non durante l'estate, diciamo, in un mese in cui magari non siamo tanto conosciuti. Io sto cercando di studiare l'attenzione da lì, ma siete tutti che state guardando. Pezzo che poi siamo pronti. Ok, anche insieme a Fabio. Grazie. 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 Grazie mille. Io a volte lo do per scontato e poi faccio prendere a quello che facciamo ogni giorno, però penso che è curioso da parte dei vostri sapere di retroscena di quello che succede qui e come arriviamo a suonare questo parco. Questa è la prima volta che suoniamo insieme, come siamo messi. Abbiamo fatto la prova al sound. Questa anzi è la seconda, perché abbiamo suonato le sette, quindi è una tonica età. E poi a volte la vita diventa sempre più difficile, probabilmente sempre a livello di difficoltà, non c'è bisogno di problemi con Charles, sto in line, non mi sta funzionando ma... sta andando da tutto alla grande. Qua è una cosa bellissima la musica. Continuiamo con un brano in duo, io e Alessandro. facciamo una balla di... facciamo... facciamo così, facciamo Peace di Horace Silver. Grazie. 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 Presidente Manzoni, Francesca Civiglia, Santana Vattivisca. Grazie. E continuiamo con All My Kind. È la prima traccia del disco, apri il disco. Grazie. 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 Siamo quasi in file, prepari di parole... ...volevo ripresentare e ringraziare questi fantastici musicisti, ogni volta mi sento in colpa per farli venire a suonare questa musica che richiede un po' di rodaggio, diciamo così, e ogni volta mi è venuto in coppa di facciare senza prove, senza sapere cose, quindi lì volevo ringraziare ancora Francesco Ciniglio. Chiudiamo questo concetto con una traccia che si chiama The Ever Voting You, è anche l'ultima traccia del disco, l'ultima traccia del disco è l'ultima traccia del concetto. Il disco è uscito in ottobre, intitolato I Can't See Home From Here, adesso ricominciamo. I can't see, non riesco a... Ma... No, il disco si chiama Can't See Home From Here, ce l'abbiamo qui in ingresso, in vendita, quindi se qualcuno potrebbe essere portato a casa un po' di questo... quello che abbiamo successo stasera. Può farlo, ci sono anche dei prani che non abbiamo suonato, quindi potete trovare altra roba. Poi potete ascoltarlo un po' ovunque, gratis, a pagamento, qualsiasi cosa. Voglio ringraziare anche i tecnici, Michele che ha portato l'impianto e poi il tecnico d'onore mio padre che si è messo agli attacchi. Grazie. Grazie. Grazie per il suono. Insomma, ci sono successe varie cose che mi hanno sempre sopportato. Quindi ringrazio per il suono stasera. Sono buono. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Buonanotte a tutti. Spero che non ci sono. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.